Un ragazzo trovato in classe con marijuana nascosta nello zaino è arrestato per spaccio. L'episodio di ieri all'istituto Crotto-Caurga di Chiavenna rivela che anche nelle scuole della provincia di Sondrio, seppur in misura ridotta, esiste il problema droga e ignorarlo sarebbe controproducente. Non ne conosciamo esattamente le dimensioni, però siamo pronti ad affrontarlo. Le persone serie, come è seria la scuola della Valtellina e della Val Chiavenna, è pronta a collaborare con grande piacere insieme alle forze dell'ordine perché i ragazzi devono imparare che certi atti, certi comportamenti, sono comportamenti che vanno contro la legge. Dobbiamo cercare di agire tramite attività di prevenzione. Quando queste attività di prevenzione talvolta non bastano, è necessario fare attività di controllo. Lei è favorevole ad azioni di controllo e di prevenzione fatte dalle forze dell'ordine anche in prossimità, nelle adiacenze degli istituti scolastici, con l'ausilio di unità cinofile, con tutti gli strumenti del caso? Io sono favorevole a queste attività perché, al di là di tutto, noi non facciamo attività di repressione, noi facciamo attività di intervento di fronte a delle situazioni che sono situazioni di violazione della norma, di violazione della legge. Quindi quei presidi che non si nascondono ma accettano di lavorare insieme alle forze dell'ordine fanno il loro sacrosanto dovere. A Monte c'è dunque anche un aspetto educativo e culturale di responsabilità della persona? Assolutamente. Noi qui siamo a chiamare ciascuno a fare bene il proprio mestiere. Prima di tutto i genitori, poi lo dobbiamo fare noi educatori e poi le forze dell'ordine devono fare bene il loro mestiere. Lo stanno facendo molto bene. Io le ringrazio, ringrazio il tenente colonnello, comandante provinciale dei Carabinieri, proprio perché queste attività sono attività che fanno alla fine bene alla scuola. Perché se non andiamo a scoprire queste situazioni, ce le portiamo dentro senza saperlo e si allargano, si allargano a macchia d'olio e seminano che cosa? Seminano semplicemente problemi, seminano un mal costume, un mal comportamento, seminano i reati che poi si moltiplicano. E quindi io sono convinto che ci debba essere un'attenta attività di educazione che purtroppo talvolta parte anche dalla scoperta di un reato.